marcello e amici di camper oggi parliamo di pavetta taglio che si trova nella parte proprio della pancia ventrale taglio molto piatto taglio poliedrico perché perché si può cucinare in griglia ma si può fare si possono fare mille altre cose prima cosa però fondamentale da fare questo togliere la parte di cartilagine esterna questa è la nemica della griglia tolto la parte della cartilagine possiamo lavorare la nostra pavetta quest'oggi noi faremo invece una ricetta nuova perché camper merita sorprese soprattutto in griglia si inizia dal centro la si incide in questo modo da si apre leggermente si rigira una volta aperta in maniera magistrale andiamo ad adagiare delle fettine di speck ecco qua delle fettine di speck poi ho tagliato un po di fettine sottili di montasio ci manca il colore la rucoletta è una delle verdure di accompagnamento di stagione eccezionali un pizzico di sale non molto perché abbiamo già lo speck che arricchisce di sapidità rigiriamo su se stessa possiamo scegliere di fermare la nostra pavetta con lo spago legarla oppure con gli stecchini teniamo gli stecchini a distanza di circa due dita questo ci permetterà poi di fare questa operazione vedete è ad avere una distanza giusta che permetta di sciogliersi il formaggio ma di non diciamo bruciare troppo ovviamente la parte è così straordinaria della bavetta abbondiamo due tre quattro un po d'olio e adesso cari signori anzi cari amici di camper in griglia questa e voilà la bavetta è pronta quando ci accorgeremo che il formaggio si sta sciogliendo in maniera da filare guardate si vede lo speck il formaggio si scioglie c'è il verde della rucola e noi ci siamo fatti un piatto dove ricordiamoci questa questo taglio anatomico etico soprattutto economico non ha bisogno di cotture prolungate fiocchi di sale che quali non devono mai mancare soprattutto alla fine della cottura filo d'olio d'oliva e caro marcello e amici di camper anche oggi abbiamo grigliato insieme sperando di essere riuscito a farvi venire un po di appetito ma soprattutto usando un taglio alternativo etico la griglia è questione di passione e io passione non tanto ci vediamo la prossima parola di la città